Si chiude domani sabato 2 settembre la stagione delle manifestazioni al Castello Bastione organizzata dall'Associazione Capo d'Orlando Ovest. Sull'onda di un'ottima annata turistica per la città, anche lo splendido spazio all'aperto a ridosso dell'antico castello ha fatto registrare numeri in grande crescita, soprattutto in occasione delle serate in cui l'aria si è trasformata in balera, trasformando il bene architettonico in un punto di riferimento dell'estate orlandina. Come è avvenuto un anno fa, la serata conclusiva sarà l'insegna del bianco. Il White Party, infatti, prevede che tutti i partecipanti, l'ingresso è come sempre libero, scendano in pista rigorosamente con un indumento bianco per poi concludere le danze con un grande selfie di gruppo. Una serata di svago e spensieratezza nella quale il giardino del Castello Bastione si trasforma in balera con musica dal vivo e balli di coppia e di gruppo. Una formula semplice ma vincente che ormai da diversi anni richiama centinaia di persone da tutta la provincia in ogni fine settimana. Come sempre, la serata si concluderà con la degustazione di pennette per tutti i partecipanti.